Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Oggi presentazione ufficiale di Luca Fiordilino e Vittorio Parigini. Siamo in trasferta in una sede particolare, siamo nell'azienda Saeflex. Tra l'altro quest'anno si festeggia un compleanno importante, il trentennale dell'azienda. Insieme a noi il titolare Angelo Medici, il figlio Evaristo ed il nipote Pietro. Siamo qui oggi per la presentazione ufficiale dei due giocatori che entrano ufficialmente in Feralpi Salò. Abbiamo scelto questa location non a caso. Saeflex è un'azienda storica che sostiene Feralpi Salò da parecchi anni, è partner ufficiale. Quest'anno è oltretutto sponsor di maglia sia per la maglia da gara sia per la seconda porzione di campionato sulla maglia da trasferta. Quindi uno sponsor importante, significativo. Lascio la parola ad Angelo Medici che ci racconta il perché di questa rinnovata e storica partnership e soprattutto il futuro dell'azienda, visto questo compleanno importante, visto questo trenta, che tra l'altro vediamo su questa maglia di casa che oggi presentiamo ufficialmente. Grazie, grazie alla presentazione e grazie anche per la maglia perché quest'anno appunto festeggiamo il trentesimo compleanno dell'azienda, azienda che è nata in primis con la presenza di mio fratello, che è ancora in azienda, su un'idea sua. È un'azienda che tratta componenti oleodinamici, è un'azienda per cui si occupa di prodotti tecnici, prodotti tecnici per l'industria, per cui questi prodotti tecnici trovano particolare applicazione nell'industria pesante, di conseguenza l'utilizzo è un utilizzo presso le acciaerie dove è necessario, in quanto con la tecnologia dell'oleodinamica si riescono a muovere delle masse molto importanti attraverso tutta una serie di componenti e un impianto oleodinamico. La vicinanza con la famiglia Pasini è storicamente da sempre, per cui l'inizio del nostro rapporto con Feralpi Salò è stato dal primo giorno ed è stato con entusiasmo e con piacere. Con piacere poi, con tutti gli sforzi fatti, in primis dalla proprietà, poi da tutta l'organizzazione tecnica e soprattutto poi anche dalla parte del tecnico e dei giocatori, si è arrivati a questo traguardo della serie B, per cui ci sembrava il minimo dare continuità e dare anche sostanza alla parte di presenza nostra. Per cui ecco, ringrazio io la famiglia Pasini, la famiglia Feralpi Salò di questa opportunità. Tante, Angelo, le iniziative che hanno visto le vostre aziende, perché oltretutto oltre al brand Syflex annoveriamo anche Alfa Laminati, tante le iniziative, tra cui la storica conferenza stampa, quando ci fu il ritorno di Simone Guerra, che tu presentasti al Turina, a Salò, e successivamente anche la bellissima iniziativa della maglia No Guerra, che tu decidesti subito di battere all'asta, giocando appunto sul tempo per portarti alla casa, soprattutto in ricordo di quella presentazione, una maglia che poi hai volutamente restituito al club, in senso e in segno di stima e di riconoscenza. Quindi abbiamo voluto anche ricordare queste tappe significative. Cosa oggi per te rappresenta la serie B, soprattutto per un campionato che esporta il vostro brand in 60 paesi nel mondo? Quindi immagino anche un'opportunità di visibilità importante che vorrete sfruttare a tutto tondo. Sì, assolutamente. Innanzitutto, iniziativa di guerra, al di là che penso di aver portato anche fortuna, visto i risultati, e spero in particolare l'attaccante di essere prolifico come guerra. Speriamo di portarti fortuna come ho portato lui, al di là che poi siete giocatori bravissimi, per cui non serve la fortuna, serve il talento. Detto questo, diciamo che poi l'abbinamento del nome guerra è stato un qualcosa, direi, a livello di marketing e di messaggio da parte vostra, molto significativo. È chiaro che in quei momenti erano momenti iniziali della guerra, erano momenti sicuramente delicati ed emotivamente che ti colpivano, per cui anche qua sono quelle testimonianze, quelle possibilità che hai che fai con molto piacere e senza voler esserci dietro nulla di commerciale ma volutamente personale, personale da parte di tutta l'azienda, sia da parte della mia famiglia che da parte di tutti i collaboratori, per cui è stata un'iniziativa che siamo felici di avervi partecipato e aver contribuito e mi sembrava giusto, visto anche il clamore che ha suscitato, che la maglia ritornasse dove deve essere nella sede della società, dove è giusto che sia, dove è giusto che sia esposta, insomma. Per cui direi che poi per quanto riguarda la serie B, un'altra domanda, chiaramente la visibilità lo si è visto subito dai primi giorni, è cambiata totalmente, sia sui network classici che a livello di interesse, a livello così, sia provinciale che nazionale. Noi avevamo e abbiamo bisogno anche di questo, perché siamo un'azienda che quando è partita nel 1993 fatturava 3 miliardi di vecchie lire, oggi dovremmo chiudere intorno, quest'anno ci siamo posti un obiettivo intorno ai 22 milioni di euro, per cui la crescita è stata una crescita, direi, molto importante e vorremmo non fermarci lì, per cui in tutto questo desiderio di crescita nei prossimi 3-5 anni, sicuramente l'aspetto della presenza, l'aspetto del marketing, l'aspetto pubblicitario, l'aspetto della visibilità è un qualcosa che abbiamo sempre avuto attenzione, ma lo focalizzeremo ancora con maggior interesse. Quali sono un po' i nostri obiettivi? Magari farei parlare un po' anche mio nipote e mio figlio, visto che fanno parte già fortunatamente di una seconda generazione ed è un'altra delle cose che ci fregiamo in questo momento, di essere una piccola media industria o azienda in Brescia, dove mi risulta che il 97% delle aziende sono over 70%. Noi siamo un po' fuori dal coro e fortunatamente abbiamo la possibilità sia con clienti che con fornitori di dare una possibilità di medio-lungo periodo a livello di rapporti, rapporti che chiaramente consideriamo avere nel medio e nel lungo periodo con la Feralpi Salò. Grazie Angelo. Passiamo il testimone allora De Varisto Medici, un passaggio di testimone importante, però vorrei spostare su di te oltre al racconto dell'azienda perché ti vedo giovanissimo, quindi affiancare il padre e fratello, poi la famiglia all'interno dell'azienda, la tua passione è anche, immagino, sportiva e quindi il motivo per cui ti vedremo spesso al Garilli di Piacenza a tifare Feralpi Salò. Beh, io sono diciamo come membro della famiglia l'ultimo arrivato da un punto di vista cronologico, infatti è un anno che sono in azienda però diciamo che è stato comunque un anno molto positivo per noi dove comunque abbiamo iniziato a lavorare verso diverse iniziative, come diceva mio padre, una ricerca di internazionalizzazione, una ricerca di nuovi mercati e quindi ci stiamo muovendo appunto con varie iniziative che sicuramente anche la visibilità che ci permette di avere la collaborazione con Feralpi Salò è sicuramente importante e centrale in questo progetto. Per quanto riguarda invece la mia passione sportiva diciamo che fin da subito quando... Come? Modesto. Ah, molto molto modesto sono sempre stato più appassionato da un punto di vista di guardarla a casa con famiglie, amici o allo stadio piuttosto che come giocatore. Ho una carriera molto breve di un anno praticamente però sì, comunque sia da casa che dallo stadio le partite le seguo il risultato se non riesco a vederlo alla tv lo seguo e anche appunto tutta questa preparazione per la stagione di Serie B l'ho seguita tramite i canali social un po' le notizie parlando con voi e tutto quanto quindi sicuramente la seguirò. Grazie, grazie Varisto passiamo a Pietro ti abbiamo sentito raccontare ed illustrare prima Luca e Vittorio tutta la parte tecnica legata alla produzione di componenti importanti che entrano non solo nel gruppo Feralpi quindi anche nelle acciaierie del territorio quindi una competenza che nasce da tempo sei in azienda da diverso tempo da diversi anni quindi abbiamo piacevolmente ascoltato anche il tuo contributo e la tua passione verso questo lavoro tutt'altro che facile. Sì, grazie grazie mille io sono in azienda da ormai circa sette anni diciamo che tra un mese sono sette anni esatti sono appunto con piacere in azienda da tutto questo tempo e fin da subito sono stato accolto e affiancato da tutti i miei da tutti i miei colleghi da tutto il team Syflex che in sette anni si è voluto molto in senso positivo da quando sono arrivato siamo in molti di più e lo dico con piacere abbiamo un personale estremamente preparato a cui teniamo a cui teniamo molto e vorremmo preparare sempre di più ci sono nuove sfide su nuovi mercati nuove tecnologie e i nostri partner più importanti ci vogliono ci vogliono affiancare in questo e ci ritengono un'azienda strategica nel settore olodinamico e non grazie ringrazio Syflex alla famiglia Medici passo la parola adesso alla stampa e alle domande a Vittorio abbiamo bisogno del microfono allora ho visto che siete arrivati avete la stessa età e avete lo stesso numero di presenze tra i professionisti parigini 207 presenze fiordilino 208 siete fratelli tra i professionisti allora cominciamo da parigini da piccolo prima punta poi sei diventato ala sei molto veloce quanto impieghi sui 100 metri? questa è una bella domanda non ci ho hai mai provato? non l'ho mai provato mi ritengo un giocatore veloce mai con Jacobs ti sei? penso che non lo vedo neanche partire no comunque non ho mai avuto l'occasione di provare a fare un tempo sui 100 metri so di essere un giocatore veloce ma non so i tempi sui 100 metri non hai mai assaggiato il pane duro della serie C hai sempre fatto A e B mi ritengo un giocatore una persona fortunata non perché chi gioca in C non lo sia però fino adesso ho sempre giocato molto in serie B poco in A e spero di continuare così E sei stato solo due volte per due anni nella stessa società Perugia e Como come mai questo via vai? perché quando sei giovane fai parte in una grande società magari vai a giocare degli anni in prestito quindi magari fai bene e ti richiamano oppure provi altre altre squadre quindi funziona un po' così Credo che tu hai un paio di allenatori maledetti tra virgolette Rolando Maranchi Evo Genoa e Walter Mazzarri hai acceso il lumino sotto la loro immagine li ami li odi cioè con loro non hai avuto tanta Diciamo da quando ho iniziato a giocare nel calcio professionista ho amato tutti i allenatori che ho avuto con chi ho giocato di più con chi ho giocato di meno ma per me mi hanno lasciato tutti qualcosa Maran per me è stato il primo allenatore che mi ha fatto sordire in Serie A e Mazzarri è lui che mi ha fatto fare quasi 30 partite nella mia città nel Torino quindi per me rimarranno sempre nel mio cuore hanno un ringraziamento quindi non sono i tuoi allenatori maledetti assolutamente no ho visto che a Salerno il sindaco Napoli di Salerno ti ha premiato perché durante una partita sei intervenuto e tirato fuori la lingua a un giocatore polacco infortunato sì io giocavo ad Ascoli e giocavamo una partita Ascoli di Salernitana e vi dico questa scena di questo ragazzo che barcollava che poi è caduto quindi ho lasciato immediatamente la palla e sono andato in soccorso quindi questo polacco ho visto che è uscito di scena penso si è andato a giocare nel suo paese è andato a giocare nel suo paese credo sei il cognato di Zaccagni vi seguite vi scambiate opinioni ieri sera hanno pareggiato uno a uno sì lo sento spesso è un giocatore che ammiro oltre alla persona e parenti che siamo per me è un giocatore straordinario cerco di rubare qualcosa essendo che facciamo lo stesso ruolo quindi è un motivo d'orgoglio vederlo giocare in una grande squadra e ieri sera ha giocato la sua prima partita in Champions quindi io gli auguro il meglio Doria ti passo no facciamo finì finiamo lui dai sei arrivato qua a Salò come sono arrivato con una trattativa abbastanza lunga si parlava di questo trasformamento già da fine luglio ma bisognava prima sistemare alcune cose e poi con estrema felicità sono riuscito a chiudere prima della fine del mercato ma il primo approccio sentire la realtà Ferralpi-Salò che è la super matricola possiamo dirlo della serie B che effetto ti ha fatto oddio dove vado a finire ma no perché credo che se la Ferralpi-Salò sia in B perché sia una grande società anche se è piccola che è nata da poco perché sono solo 14 anni ma dopo 14 anni vedere una squadra è una società in B non è scontato quindi che si chiamasse Ferralpi-Salò che si chiamasse pizzichettone non conta quello conta l'anima della società è l'obiettivo che si pone io ho seguito poche partite quelle del Torino fino a che non sono arrivato quindi mi sono medesimato nel progetto Ferralpi-Salò quindi sono venuto con grande convinzione a che punto sei secondo te come forma e come integrazione negli schemi in quello che ti chiede vecchi a livello di preparazione mi sento a un 70% io purtroppo non ho fatto il ritiro perché ero fuori Rosa Genova quindi ci vorrà un po' di tempo però mi sento bene sto bene è un ambiente che fa star bene il mister dà le giuste nozioni tattiche io cerco di adattarmi il più possibile a comando un buon ricordo di te mi sembra tra un po' ci sarà anche questo rendezvous da ex diciamo che ho passato due anni molto belli a Como quindi credo che ogni giocatore dove va a giocare cerca di lasciare il meglio di sé quindi io credo di aver lasciato tanto e loro come società e come tifosi mi hanno lasciato tanto quindi per me rimarranno sempre nel mio cuore un assist o un gol cosa che metti in testa in questo momento un gol adesso in questo momento ne hai bisogno per la testa passiamo a Luca tu sei arrivato dovevi non sapevamo se prendere il posto di Carraro e giocare insieme a lui e alla fine Carraro non c'è perché non sta bene ti sei impossessato del centrocampo e anche a Palermo in una partitaccia per la squadra da palermitano per me dell'aria del Barbera ti ha ti ha aiutato cosa ti senti di di fare per questa squadra come te la senti addosso ma guarda secondo me posso portare un po' di esperienza come tanti ragazzi che hanno fatto la Serie B in possessare del centrocampo quello assolutamente no perché ci sono altri bravi e tanti ragazzi che secondo me possono far bene in quel ruolo soprattutto Carraro che lo aspettiamo il prima possibile perché ci deve dare una grande mano il capitano e quindi lo aspettiamo al più presto e poi per quanto riguarda il mio ruolo sarà il mister a decidere ho fatto nella mia carriera sia il mediano che la mezzala quindi non è un problema fare il regista quindi non è proprio la tua prima funzione ti senti più un mediano che un regista? Allora devo essere sincero sono partito da mediano nel senso anche in primavera poi a Cosenza a Lecce ho sempre giocato da mediano poi il secondo anno di Venezia Zanetti mi ha chiamato e mi ha detto che voleva che interpretassi quel ruolo di mezzala e alla fine lo ringrazio tanto perché sono arrivati i miei primi gol in Serie B e quindi anche quell'anno ho fatto bene in quel ruolo quindi deciderà il mister tu sei riduce da una seconda parte di stagione lo scorso anno quella che in ambito nazionale era prima della Feralpi salò la favola su Tirol noi diciamo sempre che ci sono tante analogie tra su Tirol e Feralpi tu che le hai vissute una dietro l'altra le stai vivendo cosa ne dici? è la verità perché è una società sana sia su Tirol che la Feralpi salò giocatori veramente bravi e veramente con una mentalità forte che è quella la cosa più importante per raggiungere il nostro obiettivo sono stati sei messi fantastici per me perché volevo cambiare aria dopo i tre anni e mezzo che avevo fatto a Venezia ed è stata la scelta migliore perché grazie anche i ragazzi che mi hanno aiutato al su Tirol abbiamo fatto una cosa straordinaria e ringrazio tanto veramente anche il mister Bisoli e il direttore Bravo che mi hanno preso lì al su Tirol e quindi le ringrazio veramente tanto e secondo me quest'anno il primo obiettivo nostro deve essere la salvezza perché quella è la cosa più importante e niente però vedo tanta somiglianza tra le due società obiettivo salvezza che come si può raggiungere in ragione anche del fatto che l'inizio è stato quello che è stato raggiungere facendo bene qualsiasi cosa anche i dettagli il singolo allenamento farlo per bene secondo me si può arrivare a questo obiettivo e piano piano metteremo tutti il 100% per arrivare a questo grande obiettivo per la società mi corre l'obbligo di tornare a quello che è un gemellaggio non ufficiale ma Palermo Salò tu prima l'hai vissuto da fuori perché hai sentito parlare da palermitano adesso l'hai visto da dentro quando siete andati a giocare che sensazione ti ha dato? una una sensazione bellissima perché io l'anno scorso quando ero al Venezia non ho giocato lì al Barbera non vedevo l'ora di giocare e soprattutto mi riempie di orgoglio questo gemellaggio che c'è tra la Ferral Pisalò e il Palermo veramente lo stadio è stato fantastico e li ringrazierò per sempre allora tu tu sei palermitano puro sangue nato a Casteldaccia raccattapalle a Renzo Barbera ti diplomi geometra con una tesi sullo stadio Renzo Barbera sei proprio rosa nero nel sangue rosa nero sì 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 è la verità sono tifosissimo del Palermo e niente li ringrazierò per sempre perché comunque grazie a loro sono arrivato a diventare un professionista e quindi veramente li ringrazierò per sempre e però a Palermo è legata anche la grande delusione del fallimento sì quella è una parte che mi porterò dentro e mi dispiace per come siano andate le cose però adesso devo essere sincero è arrivata una società forte per il Palermo e spero che arriveranno i traguardi che si sono prefissati loro le delusioni maggiori fallimento del Palermo oppure i K.O. nei play-off sei arrivato vicinissimo a conquistare la promozione sia a Lecce che col Palermo che col Sudirol l'anno scorso che avete perso col Bari perché avevate un giocatore che avete subito gol mi pare quando un vostro giocatore era fuori dal campo se non ricordo male le delusioni maggiori tra queste quali sono? onestamente sono tutte delle delusioni non ce n'è una in particolare forse quella del Palermo perché comunque io ce l'addosso proprio il rosa-nero però devo essere sincero anche le altre semifinali le finali che ho perso sono state dure da digerire però devo essere sincero con il Venezia quando ho vinto almeno un anno arriviamo adesso alla soddisfazione maggiore se l'hai provata a 17 anni quando sei entrato nelle giovanili del Palermo o se l'hai provata con la promozione del Venezia tutte e due sicuramente tutte e due la promozione in Serie A è il sogno che si è avverato perché sono partito dal basso e sono arrivato in Serie A vincendo un campionato da protagonista ed è stata la cosa più importante in questo momento della mia vita calcistica poi è curioso il fatto che lì quell'anno Venezia hai fatto quattro gol gli unici che hai realizzato in tutta la carriera lì quell'anno quest'anno dovrai farli anche a Salò qualcuno qualche gol spero di sì dicevi prima con Carraro riusciti ad adeguarvi sul campo a giocare assieme perché noi con Carraro ci siamo sempre trovati bene adesso sta attraversando un brutto momento però è il nostro leader riuscirete a non litigare in campo no assolutamente assolutamente no devo essere sincero mi ha cioè Carraro è un giocatore fantastico in questo momento non c'è quindi non ci siamo neanche potuti confrontare anche in campo però col mister ne abbiamo parlato quando ci sarà ci darà una grossa mano vedremo il mister deciderà quello quello sicuramente e dicevamo prima Parigini sposato una bambina tu la tua situazione familiare come è sei sposato sì sì mi sono sposato l'anno scorso bambini no bambini ancora no arriveranno sul clima del lago di Garda speriamo 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 di sì tutti i nostri giocatori degli ultimi anni hanno avuto ogni anno speriamo che il lago speriamo dai anche Parigini è contento assolutamente ok ringraziamo Saiflex per l'ospitalità grazie mille a Luca Fiordilino e a Vittorio Parigini e grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti